signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questa settimana andiamo a parlare di un altro degli errori tipici che vengono commessi dai master principianti c'è quello di non saper gestire il flusso delle idee durante una campagna e questo normalmente porta ad avere momenti in cui accadono un sacco di cose contemporaneamente seguiti poi da momenti in cui in realtà non succede niente di rilevante nella storia inutile dire che questo affossa notevolmente il valore narrativo della campagna prima di cominciare col video vero e proprio però una comunicazione di servizio tra due settimane uscirà il video per il secondo compleanno del canale l'ho già fatto l'anno scorso quindi se avete domande su quello che faccio io qua su youtube o qualcosa in generale da chiedere sul canale mi piacerebbe fare come ho fatto l'anno scorso un video in cui magari rispondo a un paio di quesiti e faccio il punto generale della situazione se avete domande scrivetemele qua sotto nei commenti scrivetele sull'account youtube modi per contattarmi ne avete lo dico con due settimane d'anticipo così ho il tempo per organizzarmi non dover fare una cosa improvvisata all'ultimo minuto finita la comunicazione di servizio torniamo a noi saper diluire le idee durante tutto l'arco di una campagna non è qualcosa di scontato ma è molto più facile di quello che si pensi quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come fare a farlo capita a tutti i master di venire folgorati a delle idee che ritengono essere bellissime e che i loro giocatori sicuramente apprezzeranno nella campagna che siano dei risvolti di trama inaspettati come il png che i personaggi ritenevano essere un loro alleato in realtà è una sfida del loro nemico o anche semplicemente delle scene delle ambientazioni che aumenteranno notevolmente l'impatto emotivo dell'intero discorso il fare in modo che la scena del combattimento finale contro il cattivo la campagna si svolga sulla cima di un grattacielo in un altro posto incredibilmente scenografico questa è proprio la base dell'essere un master il problema però è che tra avere delle buone idee e implementarle nella maniera corretta nella campagna c'è un po di strada da fare diciamo che la vostra idea è far affrontare al party una sequenza molto cinematografica in cui dovranno saltare tra delle rocce che emergono dalla lava bollente lo trovate sull'enciclopedia alla vocetta marro quando improvvisamente la terra inizia a tremare e dalla lava emergerà un drago sputafuoco difficilissimo da abbattere ma altrettanto difficile da evitare dato che il terreno giocherà a sfavore del party non è l'idea migliore che si sia sentita ma siete abbastanza sicuri che se descriverete bene le cose e riuscirete a regolamentare la cosa in maniera decente sarà sicuramente di grande impatto per i vostri giocatori la prima cosa da fare è tenere a freno l'impulso del tutto e subito per quanto l'idea vi sembra spettacolare cercare di inserirla nella prossima sessione di una quest già iniziata che magari è tra due giorni in cui avete anche poco tempo libero per prepararvi non farà altro che mandare in confusione i giocatori e causare dei singhiozzi nella trama che alla fine porteranno a peggiorare la storia e non a migliorarla partite dal presupposto che le idee non hanno una data di scadenza quindi usarle nella quest che mastererete la prossima settimana in quella che mastererete tra sei mesi o nella campagna che giocherete tra dieci anni nella pratica è del tutto indifferente prendete con calma l'idea che avete avuto e cominciate a diluirla per fare in modo che si adatti alla vostra campagna nella pratica dovete prendere l'idea smontarla nei suoi elementi fondamentali e analizzarli sia in funzione del tipo di storia che state raccontando sia del tipo di regolamento che state usando per vedere come meglio si possono integrare nella storia per farlo dovete seguire tre passaggi logici fondamentali decostruzione, giustificazione e applicazione nonostante i nomi altisonanti e roba molto più facile di quello che sembra e se avete un minimo di esperienza nel mistero del master probabilmente è qualcosa che già fate inconsciamente senza sapere che si tratta di una pratica codificata vera e propria inoltre se fate le cose per bene è possibile che il processo di diluizione vi porti a generare nuove idee di riflesso che vi serviranno non solo per integrare meglio l'idea che avete avuto nella storia generale ma vi forniranno anche proprio più materiale che avrete a disposizione per il vostro lavoro di narrazione in pratica vi ridurrà il numero di volte in cui sarete costretti a improvvisare per andare avanti con la campagna la prima cosa che dovete fare è quella che è chiamata la decostruzione dell'idea significa prendere gli elementi fondamentali dell'idea spezzettarli, isolarli e poi andare a vedere come ognuno di questi elementi influisce e viene influenzato dal sistema di gioco che state utilizzando il sistema ha delle regole per gestire questo elemento come vengono applicate queste regole all'elemento nel sistema che state utilizzando nel caso della nostra idea gli elementi fondamentali sono due il saltare tra una roccia e l'altra per evitare la lava e il drago questi elementi sono presenti nel sistema che avete deciso di utilizzare per la vostra quest come si approcciano le regole a questi elementi ad esempio il drago è un mostro presente nel sistema di gioco avete un mostrario dove ci sono le statistiche di un drago se non è presente quanto sarebbe difficile inserire il drago come mostro potete prendere un altro mostro e modificarlo c'è un mostro equivalente che potrebbe essere semplicemente descritto come un drago dovete mettervi voi a scrivere dall'inizio alla fine un nuovo mostro per poterlo introdurre valutate anche la componente del gioco vero e proprio una volta portato al tavolo ad esempio magari il vostro gruppo è particolarmente interessato alla tattica del gioco quindi magari un singolo mostro enorme per loro non sarebbe particolarmente gratificante magari sarebbe meglio mettere un incontro con più draghi ma un po' più piccoli o al contrario il vostro gruppo o il gioco che state usando è molto più narrativo quindi un singolo mostro è molto meglio perché accelera il gioco o anche in quel caso potrebbe essere peggio valutate se una volta portata al tavolo l'idea questa reggerà anche il dover saltare da una roccia all'altra per evitare la lava deve essere vagliato cosa vuol dire all'interno del sistema questa azione? sarà semplicemente una lunga serie di prove sull'abilità di saltare, di agilità o come si chiama nel gioco che state utilizzando? è effettivamente divertente per i giocatori dover ripetere un sacco di volte la stessa prova di fila senza che ci sia effettivamente nessun cambiamento fondamentale? non necessariamente qualcosa di figo da descriversi e poi effettivamente figo in regole ripetere un sacco di volte la stessa prova sicuramente non è divertente a questo punto valutate magari inserite qualche altro elemento per rendere la cosa più randomica magari ogni tanto una bolla di lava esplode facendo danni a dare quindi i giocatori dovranno non solo saltare ma anche schivare questi danni oppure cambiate proprio il focus della prova in realtà il problema non è tanto la lava bollente ma sono i fumi tossici che emergono in questa lava quindi l'importante non è eseguire una serie di prove tutto uguali per evitare la lava ma è riuscire a eseguirle nel più breve tempo possibile prima che i vapori tossici comincino a fare danni gravi o magari conferire malus permanenti ai personaggi questo primo passaggio di decostruire gli elementi fondamentali dell'idea e vagliarli uno a uno con le regole serve ad assicurarvi di non dover poi fare cambiamenti in corso d'opera o dovervi trovare a modificare le cose durante la sessione stessa perché vi siete resi conto che qualcosa che nella teoria sembra molto interessante nella pratica poi non lo è è comunque impossibile non essere mai chiamati a improvvisare questo però non deve essere una scusa per non fare una preparazione del gioco quando se ne ha la possibilità ora che siete sicuri che tutti gli elementi della vostra idea si adattino al gioco e allo stile che state usando per la vostra campagna è il tempo di pensare alla storia come sono giustificati tutti questi elementi all'interno della storia generale? come detto nel video della sospensione degli incredulità gli elementi di una storia devono essere coerenti tra loro e dare l'impressione di verosimiglianza dell'ambientazione gli elementi fondamentali che avete decostruito dalla vostra idea come sono coerenti rispetto alla storia generale? ci sono i presupposti perché gli avventurieri, i giocatori mantengono la verosimiglianza e la coerenza dell'ambientazione? nel nostro esempio abbiamo i campi di lava e il drago ci sono i presupposti all'interno della vostra ambientazione perché ci siano delle zone inondate dalla lava? magari lì vicino c'è un vulcano o un passaggio per il piano elementare del fuoco? una zona geografica così appariscente sicuramente è un'informazione risaputa all'interno dell'ambientazione ci sono i presupposti perché i pg sappiano della presenza di questi campi di lava? i giocatori dovrebbero almeno averne sentito parlare prima di trovarvi difficilmente la gente non si accorge se un vulcano nelle vicinanze sta eruttando ma sia che si tratti di una caratteristica tipica del territorio sia che si tratti di qualcosa che si è formato recentemente dovreste avere pronte immediatamente almeno le informazioni fondamentali per rispondere alle più probabili domande del party se i giocatori chiedono perché lì è inondato di lava non potete fare spallucce e rispondere capita considerate anche che il comportamento previsto per i giocatori normalmente è sempre quello più razionale e giustificabile perché i personaggi dovrebbero andare in una zona così pericolosa perché non possono limitarsi ad aggirarla o volarci sopra i personaggi sono per qualche motivo immuni alla lava o hanno la possibilità di procurarsi oggetti o abilità che li rendano immuni alla lava nel caso lo facciano la quest verrebbe comunque inficiata? se i giocatori possono facilmente evitare del tutto la scena ha poco senso perdere tempo e mettersi a lavorare per inserirla l'idea come detto non è sprecata piuttosto la si potrà riciclare in una prossima quest magari con un regolamento che la rende più di impatto comunque molti giocatori sono gratificati dall'uso intelligente delle proprie abilità quindi anche inserire una scena che loro possano grazie alle capacità dei loro personaggi evitare facilmente potrebbe non essere uno spreco potrebbe comunque essere l'intrattenimento per i giocatori lo stesso ragionamento va fatto per il drago è razionale e verosimile che un drago viva in quella zona? se sì, il fatto che una creatura magica così potente viva nella zona è un'informazione risaputa se non è un'informazione risaputa come ha fatto il drago a tenersi nascosto per tutto questo tempo? i pg hanno la capacità con le loro abilità per raccogliere informazioni per raccogliere elementi sull'immaginario di scoprire preventivamente che lì c'è il drago o sarà sicuramente una brutta sorpresa? se il drago vuole tenersi nascosto perché decide di rivelarsi proprio il pg e non sia rivelato prima? anche il contesto generale della scena deve essere preso in considerazione ovviamente il drago è un archetipo del fantasy se la vostra quest non è un fantasy probabilmente non è il caso di metterci un drago magari metteteci un mostro alieno un esperimento genetico quello che è molto probabilmente questo non vuol dire altro che cambiare la descrizione che farete del mostro non tanto il mostro di per sé se riuscite a trovare una risposta a tutte queste domande allora l'idea è veramente buona e sarà un'ottima aggiunta alla vostra quest se no mettete da parte l'idea fino a quando non sarà possibile rispondere a queste domande o fino a quando non potrà essere utilizzata in un altro contesto che cambi il tipo di domande che genera ricordate comunque che per generare la sospensione dell'incredulità non è necessario che tutte le risposte siano perfette serve solo che diano l'impressione di esserlo voi state puntando alla verosimiglianza non state puntando al realismo se la vostra idea è sopravvissuta alla fase di giustificazione adesso è il momento di applicarla alla storia cosa succede in questa fase dipende molto da quanto è impattante sull'ambientazione, sulla storia l'idea che avete avuto un'idea per una nuova arma o un nuovo equipaggiamento potrebbe richiedere un lavoro minimo di giustificazione basterà inserire quell'equipaggiamento nella lista degli oggetti che i giocatori possono procurarsi o comprare e magari inserirlo nella storia facendo in modo che qualche png ne parli o magari nella descrizione di un ambiente inserite un cartellone pubblicitario con lo spot del nuovo fucile appena uscito dalla ditta che fabbrica armi un'idea molto più complessa con molti più elementi potrebbe richiedere molta più lavorazione un'idea molto complessa potrebbe richiedere un'intera quest per giustificare ogni suo singolo elemento o... e potrebbe essere anche un'intera campagna in cui ogni quest è dedicata alla giustificazione di ogni singolo elemento per arrivare poi all'idea vera e propria come finale di campagna non voglio dilungarmi troppo sull'applicazione piuttosto ci torneremo dopo aver finito di parlare della struttura narrativa in tre atti per vedere come applicare nella pratica le strutture narrative alla quest come avete visto però l'intero processo può essere fatto nel giro di quanto sarà stato questo video? un quarto d'ora? togliendo l'introduzione togliendo le parti non essenziali in un quarto d'ora riflettendo un attimo avete già potuto controllare se l'idea che avete avuto reggerà o meno non è neanche qualcosa che dovete fare di scritto non richiede un impegno pratico potete rifletterci nella pausa caffè quando siete al lavoro durante l'intervallo se andate ancora a scuola comunque ci metterete molto meno tempo a fare l'intero processo di diluizione che a mettervi a scrivere l'incontro vero e proprio senza correre il rischio che poi il tempo sia buttato è meglio sprecare un quarto d'ora che sprecare molte ore per la scrittura facciamo che finirla qui che come sempre ho sforato i tempi settimana prossima ritorneremo a parlare della struttura in tre atti cominciando a scendere nei dettagli per il resto se avete domande, dubbi, perplessità come sempre usate l'area dei commenti qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi altri video iscrivetevi e schiacciate il tastino nella campanella io sono il Master CAE noi ci vediamo al prossimo video ciao